Per il terzo anno consecutivo Firenze ospiterà in autunno Didacta, la più importante fiera europea sul mondo della scuola. Didacta, voce del verbo innovare, è lo slogan della manifestazione presentata dall'assessore regionale alla pubblica istruzione Cristina Grieco e dal direttore dell'ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia. Didacta Italia punta a favorire il confronto sul mondo dell'istruzione fra enti, associazioni e imprenditori ed è il luogo dove le scuole e le aziende del settore si incontrano. La Regione Toscana partecipa con uno stand realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo, ancora più grande rispetto alle prime due edizioni. Oggi vorremmo lanciare un messaggio ai docenti, al personale tutto della scuola della Toscana perché Regione Toscana sarà presente con tante iniziative e farà un po' da vetrina, da cassa di risonanza per le eccellenze e anche le buone pratiche, quindi le esperienze vincenti che ci sono nelle scuole della nostra regione. Queste esperienze sono veramente tante. Durante la fiera saranno presentati progetti ed eventi che hanno caratterizzato l'attività dell'assessorato, saranno valorizzate le esperienze positive e innovative della Toscana che fa scuola, della filiera tecnico-professionale, saranno premiati studenti e scuole che si sono distinti a livello nazionale e toscano. I seminari saranno particolarmente arricchiti grazie alla collaborazione con l'ufficio scolastico regionale. La scuola toscana darà il proprio contributo, fattivo, come sempre, stiamo lavorando alla messa a punto del programma, un programma che si pronuncia essere molto molto interessante, quindi speriamo, confidiamo nel fatto che la prossima edizione possa registrare un numero di presenze ancora maggiore rispetto allo scorso, non solo a livello regionale ma a livello nazionale. L'edizione 2019 di Didacta si terrà alla Fortezza d'Abbasso di Firenze dal 9 all'11 ottobre.